Benvenuti, questo è il nostro appuntamento con Ben Godi. Come vedete dal titolo, l'argomento della trasmissione sarà dedicato alla verdura e frutta. Io ho scritto frutta e verdura perché tutti abbiamo l'abitudine di dire così, ma scopriremo che invece il valore centrale a livello di nutrizione e alimentazione è quello della verdura. La freschezza, la stagionalità, studio, guardiamo di che si tratta. Abbiamo degli interlocutori qualificati che arrivano per raccontarci ciascuno le proprie esperienze, ma poi avremo anche, e vediamo nel campo totale, i produttori con le loro, direi, migliori immagini di prodotto. Ma andiamo con Roberto Francini, collegamento in esterna dalla Val di Chiana, un campo. Roberto, frutta e verdura? Sì, verdura per il momento. Poi vedremo anche la frutta, come giustamente dicevi tu. Partiamo dalla verdura, siamo ad Alberoro, all'azienda Agricola Merelli, vedremo che c'è Emanuele, c'è Francesca, Angelo, ci condurranno nelle loro produzioni. Qua dietro stavo controllando, sembrano zucchine, comunque chiederemo tra un attimo. Insomma, conosceremo le produzioni locali e anche la stagionalità delle produzioni, che è fondamentale per il prodotto a chilometro zero. Benissimo Roberto, come sempre, fra poco ci ricollegheremo. Iniziamo con il racconto con Elisa Polverini, che è responsabile per Coldiretti e per Arezzo. Elisa, perché la scelta da parte vostra in questa stagione della trasmissione dedicata a frutta e verdura? Beh, chiaramente non poteva essere diversamente. Abbiamo nelle nostre campagne in questo momento un trionfo di colori, di frutta e di verdura. Ed era doveroso da parte nostra parlare assieme alle anime della nostra attività, quindi le nostre aziende, ma anche insieme ai nostri esperti, approfondire la questione, il tema della frutta e verdura di stagione. Per parlare non soltanto di quelle che sono le nostre eccellenze, le nostre migliori produzioni, specialmente nella zona della Valdichiana, ma per parlare anche di quanto sia importante, quanto siano importanti le attività di controllo, per evitare che vengono spacciati come made in Italy dei prodotti che vengono importati. Parliamo, parleremo sicuramente dell'ottimizzazione della spesa per ottenere il migliore rapporto prezzo e qualità, per favorire l'occupazione delle nostre imprese, per descrivere quello che sta accadendo nelle nostre campagne. A fronte di un'inflazione dei prezzi al consumo nei nostri supermercati, una forte deflazione nelle nostre campagne, con prezzi assolutamente pagati al di sotto dei costi. Allora aspetta, ha detto una cosa, c'è l'azienda, scusa, mi ricordi l'azienda vostra è? Pollice Verde. Pollice Verde sei con la moglie, perché anche la moglie è. Sì, 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 Manuela. Nomi è? Tu il nome. Michele. Michele e Manuela. Voi siete di che aree esattamente? Noi siamo alberoro, siamo vicini all'azienda. Scusa, lei ha buttato là subito una cosa, dopo ritorno sull'approfondimento dei vari argomenti, ma c'è una deflazione, inflazione c'è, sempre meno si paga la roba nel campo, sempre più la roba costa invece al banco della vendita. Certo, certo, stiamo cercando di arginare questo problema con la vendita diretta, molte aziende stanno provando questo sistema di vendita, però purtroppo è una vendita per pochi, ancora la gran parte di produzioni purtroppo vengono sottopagate e i prezzi sono fermi addirittura da 20, anche 30 anni. Ecco, io vedevo qui davanti le tue produzioni e in questo momento la giornalità per la frutta credo sia l'albicocca, l'icona. Sì, sì, perché è matura, siamo raccolte avanzate, quindi ci sono delle varietà veramente molto buone, molto dolci. E invece sulla verdura in questo momento il massimo del godimento e del gusto da dove arriva? Un bel pomodoro maturo, anche una zucchina appena raccolta fresca. Sì, però qui vedi sta mostrando, vorrei dire quelle frutta sono pesche maledetti della regia, c'è Luca Bursi che è un appassionato di frutta e ha anche bambini piccoli, quindi sai, la frutta è fondamentale. Allora, fra poco poi torniamo, ma Roberto Francini che finalmente gli hanno dato lo strumento della sua vita, ha capito che al posto del microfono deve usare la zappa. Al posto del microfono deve usare la zappa. Torniamo tutti, torneremo tutti alla terra, Emanuele, è così. Perché la zappa qua? Mi stai insegnando a usare la zappa. Ma perché noi non usiamo diserbi e quindi siamo rimasti ai vecchi strumenti di una volta. La zappa. Per le infestanti si fa così, fa vedere un po' come... Sono già stanco Alex io, eh. Lo vedo. Ecco, si tolgono... qui cosa state coltivando qua? Qui c'è melanzane, peperoni, poi abbiamo pomodori e altre culture come meloni, cocomeri. A che punto siamo con le melanzane ad esempio? Adesso abbiamo già iniziato la raccolta di melanzane, peperoni. La mattina lo fate, quindi per quello che adesso non ci sono. Sì, c'è qualcosa rimasto indietro. Ecco, abbiamo trovato la melanzana. Vai, vai, sta... Bellissima. No, sembra finta. Eh, sembra, sembra. Ce l'abbiamo anche noi, eh. E queste dove finiscono? Nel vostro mercato? Sì, al mercato e al negozio. Noi vendiamo direttamente dal produttore al consumatore, grazie ai mercatini Coldiretti. diretti. Anche voi fate il mercato del Coldiretti Campagna Amica? Sì, sì. Facciamo nelle zone del Val D'Arno, San Sepolcro. È una grande e grossa opportunità per noi. Cosa portate ora nel mercato la mattina? Le melanzane? Eh, zucchine. Zucchine, sì, un po' di verdura e la nostra frutta. Ecco, la frutta che per il momento, mi dicevano, che ancora non è tutta, tutta matura. Le albicocche oramai sì, sono andate, no? Sì, c'è rimasto forse l'ultima varietà e poi è finita. Dopo andremo a vedere anche le piante da frutto. Qui intanto siamo in mezzo agli ortaggi. I pomodori a che punto sono? Eh, si incomincia a intravedere i primi pomodorini rossi. Bene, andremo a vedere se troviamo qualche pomodorino rosso. Ci spostiamo a questa bellissima terra di Val di Chiana. Ti ridò la linea fra poco, stavo vedendo le immagini dall'alto. Bravo Luca, per favore, Luca Bursi, il nostro regista di oggi. Ci mostrava la Val di Chiana dall'alto, terra molto. Lei arriva da Roma, eh? Lo volevo ricordare che il dottor Lorenzo Bazzana, giusto? Sì, giusto. Qualifica sua, lei che cos'è esattamente? Beh, io sono responsabile dell'ortofrutta di col diretti nazionali. Ecco, ma lei sa che, mi rifavi della Val di Chiana, lei sa che siamo qua in un'area abbastanza, non è che vorrei essere campanilista, ma... Beh, Val di Chiana, forse solo per Chianina, comunque è nota in tutto il mondo, per cui direi che da questo punto di vista, oggi si scopre, e chi è in questo territorio lo sapeva anche prima, che non solo c'è la Chianina, ma ci sono anche gli ortaggi e anche la frutta. Quindi è comunque una valle che ha a 360 gradi delle produzioni che evidentemente sono eccellenze. Ha gettato una provocazione subito all'inizio, Elisa, facendo un sunto. Ci sono due cose che mi interessavano. La prima, problema pazzesco della deflazione, cioè da una parte dell'inflazione dall'altra. Cioè, la roba per spiegarlo a mia nonna. Nonna, la roba gli danno sempre meno soldi a questi qui, agli archicoltori, ma al banco, quando tu vai a comprarla al mercato, costa sempre di più. Ce dobbiamo fare una domanda, perché? Beh, è una domanda che ci stiamo facendo da un po' di anni. Se siamo arrivati a sviluppare il sistema di mercati di campagna amica e a sviluppare degli accordi di filiera, è perché ci siamo dati anche una risposta. La risposta è che noi dobbiamo riuscire a intercettare il consumatore, ovvero sia la nonna, e spiegare alla nonna che la parte preponderante del lavoro, la parte fondamentale del lavoro, è quella che viene fatta in campagna, non è quella che viene fatta sullo scaffale. E allora bisogna che questo signore, che lavora in campagna, che lavora di zappa, come abbiamo visto, che non usa i diserbanti, che cerca di portare sullo scaffale un prodotto sano, salubre, d'eccellenza, venga remunerato in maniera adeguata. E quindi noi facciamo i mercati di campagna amica per cercare, per le aziende che possono fare i mercati, che hanno una struttura per poterlo fare, di riuscire a trattenere attorno all'osso un po' di ciccia, per ritornare alla chianina. Però anche per restituire le papille gustative ai consumatori. Cioè bisogna che i consumatori sentano qual è il sapore della frutta maturata sulla pianta, della verdura coltivata in maniera appropriata, e riescono a capire quando evidentemente c'è invece un prodotto che non è all'altezza. Prima si faceva la battuta, noi abbiamo inquadrato i pomodori. State attenti perché sugli scaffali oggi trovate i pomodori olandesi, trovate i pomodori che vengono dalla Polonia, coltivati in sera. E allora guardi, lei proprio sta dicendo una cosa che è legata al... Ovviamente. Credo, l'informazione fondante è che dovremmo avere più consapevolezza anche l'ensaper leggere le etichette, perché c'è scritto, non è che... È inutile che Coldiretti faccia le battaglie, qui vediamo anche i cartelli sulla raccolta firme per svelare il segreto dell'etichettatura a livello europeo, e poi il consumatore non mi legga l'etichetta di prodotti freschi, ma neanche quella dei pochi trasformati che ci sono. Ecco, mi scusi, allora io ho due etichette qua davanti, ci terrei che lei... Prodotti, etichette... Oh, brava Elisa, mi hai fatto i cavalieri alla grande. Da quello dopo ne parliamo più avanti... Questo è sul fresco. Sì, questo è sul fresco. Sì, questo è sul fresco. Sì, questo la posso tenere. Eccola, la vedi? Inquadra, perché se non la tengo dopo... Non me la toglia, me la faccia tenere piano così. Allora, mi spieghi un po', carissimo, questa etichetta. Nonna, attenzione, prego, grazie. Si sveglia, eh. Metti l'occhiali su. Bene, allora la nonna dovrebbe trovare sui punti vendita o un cartellino o un'etichetta composta in questo modo, ovvero sia se il prodotto è confezionato ci deve essere un'etichetta che riporta queste informazioni. Se il prodotto invece è commercializzato allo stato sfuso, deve campeggiare sulla piramide magari di frutta, sulla cascata di verdura, un cartello che riporta queste informazioni, ovvero sia di che prodotto si tratta. Se è rilevante la varietà, se è categoria prima o categoria seconda, ovviamente l'origine, ovvero sia... Le vorrei dire, mi scusi, provocatorie, dopo mi ricollego con Roberto, ma già capire la provenienza, se è italiano o no, sarebbe un bel salto di attenzione. Non voglio essere... Già sulla categoria capisco che potrebbe essere un po' più impegnativo, ma almeno che... Però è importante per il prezzo, perché il prezzo ovviamente è legato comunque anche alla qualità del prodotto, per cui l'origine è per noi fondamentale, però insieme all'origine ci sono un'altra serie di informazioni che diventa importante leggere e conoscere. Allora, aspetti, dopo... Torniamo, Dottor Rossi, non è che te tengo... Perché semplicemente lui è più coinvolto nella prima parte del programma, poi parliamo anche del tuo libro. Stai prendendo questi appunti perché io chiederò, poi te lo dico, che c'è differenza fra un prodotto fresco e di qualità a livello nutrizionale e sensoriale da uno invece di quelli... Perché sono l'ABC, credo. Una domanda difficile. Ma questa è una domanda impegnativa. Allora, una cosa però, un altro dei nostri agricoltori. Hai sentito? Tu lavori e ricordami chi sei, cara. Gori Luisella, l'azienda si chiama Il Podere dei Medici. Dove te trova la tua azienda? La mia azienda si trova nell'altissima Valtiberina, nel comune di Vadiate d'Alda. Vadiate d'Alda. E tu fai anche quello che è trasformare, cioè ciò che facevano nel passato per conservare i prodotti durante il periodo delle raccolte abbondanti, le famiglie agricole prendevano le donne spesso e facevano tutte le conserve, tutti quei prodotti fantastici che ho qui davanti. Primo elemento, etichettatura anche per te è fondamentale? Eh sì, etichettatura è fondamentale. Ancora riusciamo a fare un'etichettatura semplice e quindi, avendo una piccola azienda, riusciamo ad avere un'etichettatura facile e leggibile per il cliente e soprattutto, più che l'etichettatura, noi ci mettiamo sempre al faccio. Ecco, voi siete, ma infatti fra l'altro lo fate anche per altri agricoltori del sistema col diretti, no Elisa, giusto? Ma una cosa che mi interessava, noi stiamo parlando di frutta e verdura di stagione, ma dice, ma come, parlate di fruttura di stagione, guarda quell'anguria là in mezzo, siete dei delinquenti. Chi è in esterna è un delinquente, questo è l'aggettivo che si merita. Madonna, mi parte la salivazione a pensare, dopo ti chiedo al cocomero. Cocomero, io lo chiamo un cocomero, non anguria, perché è anguria. Scusami, ti ho fermato. Niente. Però le freschezza, perché l'elemento del mantenere dentro, riesci a mantenere dentro queste confezioni fatte con questa metodica, sapori e gusti che possano essere sensorialmente all'altezza? Sì, riusciamo, perché noi partiamo da una materia prima che è sana, quindi appena raccolta in campo, la portiamo all'interno del nostro laboratorio dove la trasformiamo. Quindi questi erano tutti freschissimi, non è che li hai infilati nel freezer, nelle celle frigorifere, no? E non abbiamo aggiunta di conservanti, è per quello che preserviamo il più possibile. Funzionano questi prodotti? Sì, funzionano. Badiate d'alda tu sei. Sì. Là su in cima. Notavo soprattutto, scusa, conferimento ai prodotti che sono dell'aria della montagna più che altro, più che la bassa collina. Sambuco, ho sentito? Sì, utilizziamo i fiori di Sambuco dove facciamo un sciroppo che è gradevole in estate, che è una bevanda molto dissettante ed è altrettanto buono in inverno e che si può fare un ottimo aperitivo. Oh, è fantastico. Roberto Francini, vediamo se sai riconoscere un'anguria buona da un'anguria cattiva. Allora, tanto per cominciare e presto per poter sapere se l'anguria è buona o cattiva. Adesso sono tutti bellini, guarda che piccoline. Queste diventeranno circa 15 chili, così mi ha detto Emanuele. Emanuele, tu hai fatto un esperimento che sa di recupero dei semi antichi. Mi ha detto che questi sono i cocomeri più commerciali, però tu hai seminato anzi dei cocomeri, quelli tradizionali chianini, quelli neri, diciamo. Sì, sono riuscito a ritrovare il vecchio seme di una volta, sperando di riuscire a recuperare qualche seme per ritrovare la razza vecchia, chianina di una volta, quelli neri, quelli grandi di una volta, sperando che ce la faccia. Questa è la passione, andare a ricercare i semi della tradizione, al di là della convenienza poi economica. Simone Vernaccini, tu sei responsabile di zona per la Col di Retti. Sì. Qual è la dimensione media delle aziende che si dedicano a questo? La dimensione media, diciamo, siamo sui 10, 20 ettari, una cosa del genere. Poi si differenziano un po' tra chi produce ortaggi e chi produce frutta, in genere quelli che hanno gli ortaggi hanno anche dimensioni relativamente più piccole nella nostra zona. E spesso queste aziende, diciamo, che destinano la loro produzione in parte al mercato locale, quindi alla vendita diretta, ai nostri mercati e in parte a alcuni mercati di riferimento che possono essere Firenze, Bologna o anche alla grande distribuzione. Anche la grande distribuzione si interessa quindi a questa dimensione di azienda. Sì, tra l'altro le nostre aziende per cercare un po' di valore aggiunto, che diciamo è necessario perché veramente siamo in un momento critico a livello di prezzi, hanno cominciato anche a fare delle prime lavorazioni di base. Cioè una volta spesso la frutta così veniva consegnata in beans, adesso invece c'è comunque perlomeno una prima forma di conservazione e anche di settamento. In studio c'è Pollice Verde, ad esempio fanno dei succhi loro? Sì, sì, poi con la multifunzionalità che ormai in agricoltura è diffusissima dopo la legge orientamento, diciamo che le aziende si sono dedicate alla trasformazione. Una volta si trasformava solo olio, vino e formaggio, adesso succhi di frutta, marmellate. Per poter mantenere il prodotto, utilizzarlo tutto l'anno? Certo, mantenere il prodotto e integrare il reddito che deriva dall'agricoltura tradizionale. Scusami Emanuele, ma se Sauro ce lo consente, c'è là all'orizzonte un trattore che sta lavorando. Cosa preparate adesso? Adesso stiamo preparando per gli ortaggi invernali, quindi tutti i tipi di cavoli, cavolelle, cavolfiore, tutti questi tipi di ortaggi invernali. Quindi grande attenzione alla stagionalità, comprate solo frutta di stagione a chilometro 0, 1 al massimo, perché è roba della nostra terra, di questa meravigliosa terra di Valdichiana. Ebbene Roberto, fra poco torniamo, ecco, di nuovo con il responsabile che arriva direttamente da Roma per ciò che concerne il gruppo di Coldiretti. Volevo sapere esattamente Lorenzo... Bazzana. Bazzana, scusi, ma lo riguardo sempre perché ci tengo. Lei fra l'altro è anche un agronomo, se non sbaglio. Ok, ha visto queste informazioni che stanno arrivando, lui ha detto mangiate solo roba di stagione, però noi qui sopra ai tavoli, era per essere chiari, stiamo proponendo anche prodotti trasformati dagli agricoltori. Non è un concetto che può stridere questo promuovere stagionalità e poi promuovere invece prodotti conservati? No, perché i prodotti conservati sono appunto il metodo migliore per poter ottenere fuori dalla stagione i sapori che ci ricordano appunto che c'è stato l'estate. Per cui la frutta conservata o la verdura conservata è un metodo comunque per prolungare la stagione. È chiaro che c'è un problema, il problema è che molto spesso noi ci ritroviamo poi sullo scaffale prodotti contro stagione che arrivano da migliaia di chilometri di distanza che sono stati coltivati con metodi completamente differenti da quelli che vengono realizzati qua. Senza i controlli che ci sono in Italia, i controlli vengono fatti solo a campione all'ingresso e poi, ripeto, c'è il grosso problema dell'etichettatura. Quindi comunque è un problema che questi sono prodotti trasformati che le nostre aziende agricole etichettano declinando appunto quella che è l'identità, l'origine del prodotto. Molto spesso noi troviamo prodotti trasformati che invece sono di importazione e che non hanno questa etichettatura di origine, che è quell'altro pezzo che stiamo chiedendo come col diretti di riuscire ad avere completato per avere la massima trasparenza di mercato. Perché in questo momento c'è grande trasparenza su alcuni prodotti, lo possiamo dire? Sì, noi oggi stiamo parlando di ortofrutta, l'ortofrutta fresca è tutta etichettata o dovrebbe essere tutta etichettata, anche qui ritorniamo alla nonna di prima. Allora, cara nonna che ci stai ascoltando e che hai messo gli occhiali, mi piace il racconto perché la nonna comunque è un pezzo di cuore. Per cui, cara nonna, se vai su un punto vendita e sull'ortofrutta fresca non trovi l'etichetta, chiedila perché è un tuo diritto. Ci sono multe salate, i commercianti piccoli o grossi che siano la grande distribuzione se non mettono un'etichetta e se le etichette non sono veritiere commettono frodo in commercio e quindi vanno perseguiti. Quindi è un diritto dei consumatori, i consumatori devono sapere da dove proviene il prodotto che stanno acquistando. Allora, andiamo in breve pausa dalla regia, poi torniamo con il nostro programma frutta e verdura di stagione con col diretti, con legamento in esterna anche. Vai Luca, prendi tu e poi continuiamo nel racconto.